Il cliente da Marese è diretto a Tremillo ed ore 14.47 è in attivo al binario 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, terra in tutte le stazioni. Attenzione, Tremillo ed ore 14.47 è in attivo al binario 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, terra in tutte le stazioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.